Ok, ragazzi sono passati più o meno dieci anni dalla prima edizione di Agotino Rock, io c'ero, molti di voi no, questo è un segno, questo è un segno dell'età, solo dell'età. Ok, continuiamo con un altro brano, potremmo chiamarlo in tante maniere, e noi giustico diamo, Girls, Girls, Girls! Ciao! 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 Grazie.